I saldi invernali 2024 vanno a rilento anche in provincia di Arezzo. Secondo un primo riscontro condotto da ConfCommercio sul territorio dopo i primi 10 giorni di shopping in saldo, il 55% dei negozi aretini di abbigliamento e calzature ha rilevato un calo a fronte di un 35% che ha riscontrato un trend stabile e un 10% che ha registrato invece un leggero incremento delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2023, un dato che conferma tra l'altro la tendenza nazionale. Pochi soldi e troppo caldo finora, ma i saldi sono appena all'inizio, spiega il presidente di Federmoda ConfCommercio Toscana, Paolo Mantovani. L'arrivo del freddo ancora più intenso nei prossimi giorni potrebbe imprimere un'accelerata alle vendite di capi più pesanti. Se invece arriva la pioggia può essere un deterrente perché non invoglia ad uscire per fare shopping, lo si è visto nel primo weekend di saldi rovinato dal meteo. Nella città di Arezzo più della metà dei negozi ha riscontrato una frenata iniziale, come confermato da numerosi negozi di abbigliamento. Dalla categoria infine si alza la richiesta sempre più pressante di una regolamentazione sugli sconti selvaggi. Le istituzioni devono sostenere la presenza di negozi di moda all'interno delle città e la via della ripresa può passare lungo le tre direttrici che Federmoda Italia ha indicato al tavolo nazionale della moda, conclude Mantovani. Un'ivage volata sui prodotti di moda, in particolare quelli made in Italy, un bonus moda per l'acquisto di prodotti ecosostenibili e un canone di locazione commerciale concordato tra locatori e conduttori per ridurre il peso degli affitti.